Iniziamo questa sessione della Loto Green. Vi ringrazio innanzitutto per avermi messo considerato quasi green. Allora, iniziamo con il dottor Cugnetto, trattamento dei fallimenti con chiodo, un caso clinico. Buongiorno a tutti, ringraziamento agli organizzatori per l'invito. Il caso clinico è una donna di 68 anni che a marzo 2021 ha riportato una frattura del collo femore destro, con mobilità, ipertensione, diabete, osteoporosi, precedente cappaseno. Come vediamo da parte di frattura, è una frattura molto complessa, una medio, basi cervicale, intertrocanterica e tutta una convinuzione della parte della regione trocanterica. La paziente è stata sottoposta, probabilmente vista pure l'età non molto anziana, a un trattamento con chiodo endomidolare cefalico, che già dal primo caso si evince che la regione del calcano è ben ridotta e si ha pure una diastasi a livello del trocantere. Passano due mesi, la paziente non cammina, non recupera, ha dolore, sta quasi sempre in carrozzina. A questo punto giunge la nostra osservazione con questa lasta di controllo, che fa vedere già un iniziale cut-out del chiodo, un'ulteriore perdita e riduzione del calcar e soprattutto nel cerchietto rosso vediamo quasi un completo riassorbimento della regione trocanterica con l'esposizione della parte prossimale del chiodo. Viene chiesta una TAC che esegua luglio 2021, la TAC conferma il quadro iniziale cut-out, mancata segni di consolidazione a livello del calcar e questo quadro di esposizione della regione prossimale del chiodo. Viene proposto l'intervento di revisione, che la paziente al momento non accetta perché è un pochino demoralizzata così, si presenta alla nostra osservazione a settembre 2021 quando viene sottoposta a intervento di revisione. Naturalmente viene fatta una revisione con un cotile, un'artoprotesi, con un cotile a doppia modalità e uno stelo a presa diafisaria. Queste sono le immagini intraoperatorie della scopia perché si è tentato con quella placchetta trocanterica di agganciare, non si vede bene, quello che poco rimane del grande trocantere per stabilizzarlo. Un pochino prima come nella lettura magistrale si tentano di fare queste sintesi, ma già nel controllo che noi abbiamo subito post-operatorio si vede che la placca un pochino si è scomposta posteriormente e ha perso la presa sulla regione trocanterica. Paziente va a riabilitazione, torna a controllo il novembre 2021, il grande trocantere è risalito, la placca è ulteriormente scomposta, però la paziente dal punto di vista clinico sta meglio. Qui abbiamo le immagini, questo è il controllo della settimana scorsa, la paziente deambula col deambulatore più che altro per un motivo psicologico, perché ci si appoggia poco, muove la gamba abbastanza bene su tutti i piani, non ha dolore. Spunti di riflessione per questo caso. Corretta indicazione a livello del primo intervento chirurgico, magari era necessario integrare quell'imaging con delle immagini TAC e valutare se c'erano altri mezzi di sintesi da poter impiantare o addirittura la protesi d'Amblè. Poi abbiamo visto nella lettura magistrale prima quanto è indicato fare la sintesi del trocantere, visto che poi possono avere delle perdite di riduzioni così, anche perché visto che nella situazione attuale la paziente non sembra clinicamente risentire di questa scomposizione del grande trocantere. se è un gesto accessorio indispensabile oppure che può essere tranquillamente evitato. Grazie mille. Bene, grazie Massimo. Proporrei di discutere ogni caso singolarmente, per cui se qualcuno ha qualche domanda per il dottor Cugnetto, qualche considerazione. Se non ci sono, gliela farei io una considerazione. Ha detto giustamente, alla fine, quanti di voi avrebbero fatto una TAC proprietoria? Ma non so, un parere che possiamo chiedere a tutti, in queste fratture dove tu, praticamente la radiografia preoperatoria non capisci niente, magari sarebbe sufficiente anche una semplice radiografia, ma fatta con l'arto in trazione, perché i frammenti si riallinano e capisci molte più cose. E poi giustamente in una paziente così, osteoporosi, pregresso K, plurifragmentalità, frattura instabile, fai la protesi primaria d'Amblè, e magari sintetizzando il canto cantere, ma la metti subito in piedi e gli eviti. Queste cose le devi programmare. Allora, noi abbiamo la fortuna in pronto soccorso, che quando vediamo delle spalle particolari così, le vediamo in pronto soccorso, abbiamo la sala TAC lì vicino, e molto spesso chiediamo la TAC, con il radiologo che si inalbera non poco, ma perché noi diciamo, a noi ci serve per l'indicazione sia al ricovero che al tipo di intervento. Una TAC in questo caso avrebbe cambiato di molto l'indicazione. La TAC fatta così, non capivi niente come la radiografia, fatta con l'arto riallineato, anche la radiografia ti dà molte più informazioni, perché quando è accorciato, è strarotato, cioè variallineato. Sì, quello variallineato. Anche una radiografia la tieni tu a mano, metti in camice, già quello secondo me ti dà molte più informazioni che una TAC fatta accorciata e strarotata. Un ulteriore punto di discussione potrebbe essere, se ne era parlato anche prima, che poi è un annoso problema nelle sintesi delle pertroganteriche con chiodo, e il fatto, si era ribadito prima, il chiodo non riduce la frattura. Quindi bisognerebbe sempre, probabilmente, prendere in considerazione di aprire e fare anche delle mini incisioni per avere un'adeguata riduzione, perché tu stesso hai sottolineato che la frattura non era ridotta. E probabilmente quello è stato uno dei principali motivi di fallimento. Quindi, ecco, è evidente che poi la sintesi col chiodo viene lasciata a noi, i chirurghi più giovani, anche il venerdì sera alle 6, perché è un intervento veloce, 10 minuti e lo finisci. Però bisognerebbe sempre prendere in considerazione l'idea di aprire strumenti semplici, un uncino, un picador, ottenere un'adeguata riduzione e quindi poi sintetizzare. Quindi questo, probabilmente, ribadisce ulteriormente questo concetto della adeguata riduzione prima della fissazione con chiodo. Che ne pensi? Guarda, no, ne penso giustissimo, però per me anche in questo caso era difficile, perché noi il primo intervento non abbiamo trattato per questa nostra struttura, è arrivata la revisione, però dalla prima lastra che vedi, tu vedi che la frattura non è una base cervicale, è una base medio cervicale, già lì, e poi c'è un'intertrocanterica, perché c'è la diafisi. Probabilmente è sbagliata per l'indicazione primaria al chiodo. Bravissimo. Eppure là, pure se la vai ad aprire con gli uncini così, quella è di difficile, perché tu hai tutta la regione trocanterica con il muro laterale e il muro posteriore quasi assente perché lì si è sbriciolato. Quindi, giustamente, se o magari vi faccio in attacco o la mettevi in trazione così e vedevi che era difficoltà, almeno ti portavi in sala col chiodo una protesi e poi decidevi là se veniva bene così tutto, perché poi alla fine quando dai un intervento per un chiodo ma non ti sei prevenuto niente come alternativa, tu devi portare per forza a casa quello, bene o male. Sì, però effettivamente, tornando un attimo al discorso dell'indagine proprietaria, abbiamo visto anche delle le azioni precedenti come l'indicazione corretta è dovuta alla conoscenza corretta della frattura, per cui effettivamente forse un approfondimento di indagini con la TAC in tante fratture forse non sarebbe proprio, capisco la difficoltà anche organizzativa logistica. Però, mentre mi sembra che venga praticata molto raramente. Io il mio primario lì, che a volte pure per delle semplici fratture di polso chiedevamo le TAC in questi modi, perché giustamente appunto, quindi per me è mandataria. Andiamo avanti con il dottor Calian, trattamento fallimenti con viti. Grazie. Allora, ho portato un caso clinico dei viti di asni su frattura mediale del collo femore, un intervento visto un po' banale, spesso affidato a noi specializzanti. questo è un caso di una signora di 55 anni che è caduta in casa mentre faceva dei lavori domestici nel lontano 2015. La signora non aveva comorbidità particolari, stava bene, non aveva né ipertensione, né diabete, niente di particolare. Arriva al pronto soccorso e questa è la frattura che abbiamo visto. Allora, la signora è una garden 2 barra 3, nel senso che un pochino è scomposta, però è impattata in valgo e questo è già uno dei primi problemi che ci poniamo, come la classifichiamo bene e se c'era bisogno di un'ulteriore radiografia oppure no. Qui ho evidenziato che tutto sommato un pochino scomposta era, la signora non voleva assolutamente la protesi, voleva tentare, le è stato spiegato l'intervento, è stata lei a non volere assolutamente comunque la protesi era vista comunque a giovane età, visto che non aveva nessuna comorbidità e faceva una vita normalissima, si tenta comunque, in questo caso, di fare una sintesi. Abbiamo visto anche l'angolo di Powell che era superiore ai 30 gradi, quello era tutto un pochino al limite, tutta un'indicazione un po' spinta, era impattata in valgo, ovviamente non in varo, queste sono le lastre preoperatorie. Non è stata fatta un'attack, abbiamo ritenuto sufficiente questo, queste lastre, visto che comunque si vedeva abbastanza bene. La vascularizzazione è stata mantenuta, diciamo che, chissà se è stata mantenuta o no, abbiamo fatto poi questo intervento, è stato scelto le viti canulate, ne sono state messe tre, come vediamo, oltre all'indicazione un po' spinta, qualche piccolo errore tecnico, sicuramente c'è stato anche durante l'intervento. La riduzione, diciamo che non è stata proprio fatta, è rimasta così impattata in valgo, anche perché c'era poco da fare, le viti erano un pochino convergenti, invece di essere divergenti, non sono arrivate proprio sulle corticale, per dare una buona stabilità, quindi diciamo che non è stato un intervento perfetto. L'indicazione era un po' spinta, andavano messe, come vedete, sono un po' convergenti, un pochino basse, qui è tutta la letteratura su come mettere le viti, se metterne due, se metterne quattro, se metterne tre, se metterne parallele, tutti gli studi di biomeccanica per vedere come andrebbero messe, il triangolo rovesciato e tutto quanto. Questi sono altri studi. Questo è il controllo a sei mesi, tutto sommato sembrava aver retto, la paziente è tornata dopo dieci settimane fuori carico a camminare, non aveva particolari problemi a sei mesi, una consolidazione non si vedeva ancora, però era abbastanza soddisfatta. La paziente sparisce, non abbiamo più notizie di lei, e torna in controllo dopo sei anni. Aspetti, questa è la sintesi mantenuta, volevo far vedere che comunque era rimasta come durante l'intervento. Anche qui le proiezioni non sono uguali, abbiamo difficoltà a mantenere, però tutto sommato il posto operatorio, il controllo sembravano uguali. Torna così dopo sei anni, con una artrosi, una necrosia vascolare, un'anca distrutta, aveva dolore già da un anno, però lei non voleva la protesi, quindi ha aspettato, si vede che ha sofferto abbastanza, e ha resistito per ben sei anni con questo problema. A questo punto cosa bisogna fare? Cosa facciamo? È ovviamente una conversione ad artroprotesi. Sulle protesi da conversione, abbiamo fatto questo studio, la sapienza che sono un pochino più semplici nelle fratture intracapsulari rispetto a quelle extracapsulari, ovviamente. Queste sono le immagini intraoperatorie, in cui abbiamo rimosso le viti, senza particolari problemi. Questa è la testa del femore, che si era completamente distrutta, deformata. E ovviamente alla fine abbiamo messo la protesi. Su che tipo di protesi, che tipo di stelo, non volevo discutere, perché è la seconda parte del congresso, dove i chirurghi più esperti parleranno di questo. Quindi perché falliscono la sintesi con viti? I problemi sono stati parecchi, dall'imaging non perfetto, da una sintesi un pochino spinta, dei piccoli errori tecnici, che si sono tutti sommati, hanno portato comunque la paziente ad avere questo risultato e passare comunque a una protesi. Comunque è stata per cinque anni bene, diciamo, anche con le viti, è stato un pochino rimandato l'intervento, è stato fatto in due tempi, la paziente comunque non voleva la protesi inizialmente, quindi le è stato spiegato tutto, però di fatto questo è stato il risultato, che ha ritardato di sei anni, poi avevo un secondo caso clinico che non faccio vedere per motivi di tempo, dove lo stesso tipo di intervento dopo tre mesi è crollato tutto ed è stato tutto anticipato. Questo è tutto. Grazie, grazie. Qualcuno vuole fare qualche domanda? Se no passiamo. Vai. C'è un microfono? Qua? Ho due domande rapidissime. Una, se fosse stato fatto tutto nel modo giusto, quindi il posizionamento dei viti, la giusta indicazione e tutto, comunque non potevi prevedere che andasse in negro se o meno una testa, se siete d'accordo su questa cosa. La seconda cosa è, visto che operiamo le fratture di femore in 24-48 ore massimo, per poterle riabilitare il più possibile, ha senso tenerli dieci settimane fuori carico? Io ci aggiungo una terza considerazione, perché è l'unico dato che non ci hai dato. Dopo quante ore dal trauma è stata fatta la sintesi? Perché è stato detto stamattina, forse è l'aspetto fondamentale per una necrosi. Tu lo operi dopo poche ore o lo operi dopo quattro giorni una sintesi con viti? Perché è a meno di 65 anni, quindi può aspettare, lo operi dopo quattro giorni. Questa cosa, intanto mi è sfuggita di dirla, è stata operata in terza giornata, in questo caso, quindi non in poche ore. L'altra domanda era, in questo caso non è stato tanto il problema biomeccanico di reggere le viti, la sintesi, perché pur essendo state messe non perfettamente, comunque la sintesi si è mantenuta. il problema forse è stata la riduzione e se era effettivamente da viti, nel senso che il calcare non aveva una piena continuità e la testa era leggermente capottata posteriormente e questo forse, anche se fosse solidificata perfettamente, comunque avrebbe dato un'artrosi probabilmente. La terza domanda era? Sul carico, 10 settimane è stato deciso così dal chirurgo operatore, se ha senso, ha senso parzialmente, nel senso uno non vuole rischiare di rovinare la sintesi, ha un pochino paura, anche perché non erano solo dei viti, già l'intervento non era andato perfetto e spesso uno aspetta un pochino di più. Se ha senso, non lo so, bisogna vedere. Sappiamo che il carico nelle viti, ce l'ha detto prima Aria, c'è chiudita il carico subito. Non ci sarà mai una verità. Andiamo avanti con Di Niccolo che ci parla del trattamento dei fallimenti dell'endoprotesi. Maria, presentaci il tuo caso. Buongiorno a tutti. Il caso clinico è presente, riguarda una donna di 84 anni, obesa, che in anamnesi riporta una malattia di Parkinson, ipertesa e in terapia anticoagulante orale con varfarin per impianto di una valvola mitralica meccanica. Cade accidentalmente in casa, riporta un trauma all'ancadestro che determina una frattura sottocapitata del femore destro, classificabile come 31B1.3 secondo la classificazione AO. Siamo tutti d'accordo sulla necessità di un intervento chirurgico, siamo tutti d'accordo sulla sostituzione dell'articolazione e non sappiamo, la prima domanda che ci poniamo è se unendo un'artroprotesi. Come abbiamo visto questa mattina con il d'ortospoliti, la letteratura, ci sono diversi studi, diverse review e diverse meta-analisi che però non determinano la supremazia di un impianto rispetto all'altro e spesso quello che determina la decisione chirurgica è le caratteristiche del paziente. Quindi noi avendo un INR aumentato per ridurre l'elevato rischio di sanguinamento intraoperatorio ed essendoci scarse richieste funzionali dal paziente optiamo per l'impianto di un'endoprotesi. Lo facciamo in 48 ore e il risultato è buono se non che la paziente poi una volta in clinica riabilitativa torna in pronto soccorso dopo circa 30 giorni per problematiche di natura non ortopedica. Riporta un addensamento polmonare con un versamento pleurico e viene impostata una terapia empirica. Dopo circa 10 giorni, quindi sia 40 giorni dall'impianto, la paziente ritorna in pronto soccorso questa volta la problematica è di nostro interesse l'endoprotesi è lussata quindi nonostante il basso tasso di lussazioni che ci dice appunto la letteratura comunque questi eventi sono possibili fortunatamente la riduciamo in narcosi e riusciamo a dimetterla nella stessa giornata. Dopo ulteriori due settimane però la paziente si ripresenta con la stessa sintomatologia. Effettuiamo questa volta anche i tentativi di riduzione in narcosi non abbiamo nessun risultato decidiamo quindi di portarla in sala operatoria e convertiamo l'impianto a un'artroprotesi a doppia mobilità. Sottolineo che il quadro polmonare nonostante faccia terapia antibiotica da 25 giorni è rimasto del tutto invariato. Va tutto bene inizialmente e fondamentalmente compaiono due fistole cutanee che sappiamo essere uno dei criteri maggiori per diagnosi di infezione periprotesica secondo la Musculoskeletal Infection Society queste fistole facciamo anche un angio DC che mostra una raccolta fluida saccata perischeletrica in zona droganterica decidiamo quindi di dover intervenire nuovamente quello che facciamo è una metodica d'apri ovvero interveniamo rimuovendo quelle che sono le componenti mobili quindi la testina e l'inserto a doppia mobilità effettuiamo, riposizioniamo eccolo qui allora facciamo un ampio debridement un lavaggio accurato e posizioniamo queste perle antibiotate di calcio solfato che rilasciano appunto antibioterapia a livello locale dalla poi dalle colture intraoperatorie positive per candida tropicalis e enterococcus fecium instauriamo con il nostro infettivologo un'antibioticoterapia sistemica mirata nonostante questo diciamo sembra risolversi il quadro infettivo se non che dopo due mesi peggiorano notevolmente le condizioni cliniche della paziente sviluppa una grave insufficienza respiratoria che richiede un drenaggio ad ascesso polmonare la paziente ormai è allettata compaiono piaghe da decubito multiple e si riapre la ferita a questo punto non ci restano particolari chance quello che possiamo fare è solo rimuovere completamente l'impianto protesico fare un debratio incurettace importante tessuti molli con antibioterapia locale con rifati due spunti in conclusione per la riflessione il primo è sicuramente sulla scelta chirurgica endro contro artro protesi diciamo che ormai la letteratura in termini di minor tasso di reintervento e minor rischio di rilussazioni soprattutto in pazienti affetti da condizioni lo dicevamo anche stamattina neurologiche importanti come la malattia di Parkinson spinge sempre più verso un impianto a una artro protesi a doppia mobilità e la seconda ovviamente è sulla scelta dell'infezione periprotesica noi avevamo un timing favorevole spingevamo per una chirurgia one stage che ci permettesse di salvare l'impianto e il bone stock che avesse al tempo stesso ridotto stress chirurgico anestesiologico dall'altra parte però l'età la presenza delle fistole cutanee la severa comprofessione di testo di moglie e soprattutto l'immunodepressione della paziente che combatteva ormai con un'infezione polmonare e periprotesica da tempo probabilmente non ha giocato a nostro favore grazie a tutti per l'attenzione scusate qualche osservazione che richiede il caso clinico è certamente sull'indicazione a fare un endoprotesi una paziente che aveva un seppur lieve grado di Parkinson e lì diciamo l'idea era certamente quella di fare un intervento meno invasivo considerando che aveva un INR alto probabilmente in questi casi bisognerebbe un po' più spingersi nel fare un intervento più aggressivo nel senso mettere un'artoprotesi completa a doppia mobilità d'altro canto va ricordato che la maggior parte degli studi fanno una comparazione tra endoprotesi e artoprotesi anatomica per quanto riguarda il tasso di lussazione ma pochi ancora prendono in considerazione invece l'artoprotesi a doppia mobilità che lussano veramente poco quindi forse sì rischiare di essere un po' più aggressivi all'inizio ti avrebbe salvato da un disastro che cominciava a essere più o meno annunciato col passare del tempo quindi non so se col tempo o anche da questo caso voi avete cambiato il vostro protocollo decisionale assolutamente sì diciamo che ovviamente noi ci siamo spinti su questa indicazione fondamentalmente perché vediamo questa mattina l'età limite è solitamente 85 anni lei era del vicino aveva già un sanguinamento importante un INR terapeutico a 2,5 quindi abbiamo scelto di fare il minor intervento traumatico possibile diciamo al seno del poi sicuramente l'artoprotesi a doppia mobilità era più indicata nonostante prevedesse ovviamente la lavorazione dell'acetabolo e quindi dei tempi chirurgici anche io invece farei una considerazione veloce sul secondo trattamento cioè quando c'è una fistola il DAPRI è controindicazione assoluta lì devi prendere e smontare tutto gli avresti evitato un intervento e ecco questo perché quando c'è una fistola il salvataggio dell'impianto non è previsto certo questo diciamo c'è Parbizi che ha ripreso poi i criteri della muscolo scheletal infection society che parla appunto di presenza di fistole direttamente comunicanti con l'articolazione noi diciamo erano questa raccolta saccata in più sempre in ottica di non fare un intervento particolarmente invasivo in two stage quindi con lo spaziatore e poi una nuova revisione ad oggi dico che sicuramente non faremo la stessa scelta altre domande? sei settimane e l'indicazione del DIR che è un'evoluzione del DIR tra un'infezione acuta tra le quattro al massimo sei settimane sì ma era già un secondo intervento dopo un altro fatto un mese prima in una diabetica con le fistole cioè erano tutta una serie di fattori prognostici negativi che poi capisco cerco solo un intervento meno invasivo perché togliere quello stelo poteva essere un problema non è che viene via facile era solo per giustificare insomma la nostra scelta poi ovviamente non si è rivelata la migliore grazie andiamo avanti col prossimo caso clinico il trattamento dei fallimenti a seguito di artroprotesi dottor Bonacci buongiorno a tutti allora donna di 73 anni cade accidentemente a casa e si procura una frattura per trocantaria di femore sinistro tutto nella norma viene eroverata entro le 48 ore 24 ore presso la nostra struttura viene utilizzato un chiodo gamma con una vite cefalica con un rinforzo cefalico con un blade proprio perché durante la scopia dentro l'operatore vediamo che comunque c'è un grosso gap ostia una fragilità ostia abbastanza importante per lo stesso motivo si consiglia preferiamo dare un carico procrastinato e quindi ovviamente andiamo avanti il controllo ad un mese tutto bene tutto nella norma la paziente non ha dolore non ha problematiche la radiografia ad un mese è abbastanza buona l'unica cosa forse c'è una calcificazione che forse ci poteva dare un'indicazione secondaria per una come dire un sistema che stava per fallire andiamo avanti il controllo a tre mesi la paziente non ha nessun dolore nessuna problematica forse l'unica cosa da eccepire una vite cefalica posta è molto molto posteriore però tutto sommato la paziente non ha problemi si perde il controllo della paziente per quanto riguarda il femore nel giro di un anno la paziente ritorna per una frattura di omero della testa di omero che viene trattata da un'altra equip con una protesi inversa di spalla i controlli successivi quindi vengono fatti per la spalla e non più per il femore quindi si perda questo controllo passa altro tempo ritorna la paziente però a distanza in questo caso di dieci mesi dove ritorna il dolore inguinale ritorna il dolore inguinale e in particolare il modo al carico fa una radiografia ovviamente del bacino e ecco lì che fondamentalmente si vince fondamentalmente la migrazione della vite cefalica e in particolare la rottura del mezzo di sintesi della letta dell'U-blade a questo punto cosa fare? sicuramente pensiamo di rimuovere ovviamente il chiodo gamma e fare la nostra valutazione perché dobbiamo capire cosa effettivamente fare a questa signora facciamo la TAC vediamo fondamentalmente che c'è una grave perdita di tessuto osseo e un canale femorale che è estremamente vuoto estremamente fragile ci facciamo la nostra valutazione pensiamo effettivamente che cosa fare a questa signora che è a un'età di 73 anni una qualità di vita molto alta quindi una 73enne attiva che ha delle aspettative di vita ancora molto alte e forse quella che ci ha fatto vertire verso questa soluzione è soprattutto la madre di un collega quindi anche in questo siamo tra virgolette stati sviati pensiamo di fare fondamentalmente una protesi articolare di primo impianto con un alcol ed e un entrident e tutto sommato insomma abbastanza bene i controlli ad un mese non sono andati bene la paziente non aveva più dolore aveva una buona diambulazione forse l'unica cosa da eccepire è lo stelo che sembrava leggermente insomma già in questo caso passa il tempo si perde nuovamente la paziente nei pericontri successivi ritorna dopo un anno e ritorna con il dolore sempre inguinale un dolore che è comunque costante che è refrattario la terapia farmacologica fa le solide radiografie di controllo ed ecco lì fondamentalmente c'è un riassorbimento paradossalmente della componente acetabolare invece che uno si poteva aspettare fondamentalmente quella dello stelo una mobilizzazione di stelo a questo punto cosa facciamo prendiamo in considerazione diverse cose quindi rivalutiamo fondamentalmente tutto il nostro caso perché paradossalmente siamo partiti da una cosa semplice che era un chiodogamma siamo arrivati a fare una revisione di protesi di anca ok andiamo avanti quindi facciamo la nostra TAC perché ci serve per prendere tempo e capire che cosa fare a questa paziente vediamo che c'è un grosso gap della porzione acetabolare un grosso riassorbimento osseo e soprattutto in una paziente estremamente fragile quindi a questo punto dove indirizzarci? rifacciamo sempre la nostra valutazione la qualità di vita 73 anni le aspettative della paziente e indirizzarci fondamentalmente dove? fondamentalmente o su una protesi cementata o da ancora una protesi non cementata quindi andando verso una sintesi biologica noi abbiamo preferito fondamentalmente indirizzarci verso una protesi non cementata quindi con una ricostruzione biologica abbiamo fatto un distacco della Sias quindi con esposizione di tutta la porzione acetabolare una ricostruzione del fondo acetabolare con l'osso moscellizzato della destra della banca e uno stelo giustamente appresa metà di affisaria questo perché giustamente crediamo in questo questa è la ricostruzione della componente acetabolare che insomma tutto sommato è buona passa il tempo i controlli successivi questo è ad un mese la paziente sta benissimo non ha dolore cammina tranquillamente non ha nessun problema ancora ad un anno la paziente si ripresenta con quest'altra problematica però questa è una foto che ci manda fondamentalmente il parente e questo è il risultato che hanno fatto in altra sede noi per adesso la stiamo aspettando che torni spero da non da noi grazie qualche domanda o commento Luca c'è un po' di sospetto un sospetto che già la sintesi a quel punto mi la rimette per favore la seconda slide comunque se vuoi intanto commentare perché siamo un po' in ritardo avanti 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 ecco c'è tutta la vita c'è tutto il risolvimento intorno alla genocenza una migrazione una piccola migrazione della vita cipale che tant'è vero che c'è il segno di Bari che si dice che fa un numerone per uno squilibrio biomeccanico della sintesi ma anche prima probabilmente partia da tutto da una riduzione non accurata della parte mediale se è aperta come quando entri col chiodo che non è aperto bene il frammento mediale si spinge e resta aperto non è compattato una serie di errori ti capita una radiografia del genere post-operatoria che fai? pensi mai di revisionarla? la lasci fuori carico? magnetoterapia? che cosa fai? perché vuol dire radiografie del genere capitano a tutti ecco magari il prossimo caso molte guariscono alla fine speri sempre che guarisca alcune guariscono tra virgolette spera che guarisca ovviamente però fa sì tutto abbiamo fatto no sono state escluse tant'è vero che nella seconda revisione abbiamo fatto dei prelievi bioptici abbiamo fatto insomma quando abbiamo fatto la rimozione del chiodo abbiamo fatto sia dei prelievi sia abbiamo mandato ovviamente il chiodo ad analizzare però era negativa bene sicuramente la discussione sarebbe ancora molto lunga però il tempo ovviamente stringe dobbiamo passare agli aspetti medico-legali dottor Claudio Varese partiamo aspetti medico-legali è un diciamo un argomento abbastanza vasto ringrazio i presidenti del congresso il presidente della Lodo per avermi dato l'opportunità di chiarire alcuni aspetti la responsabilità presuppone l'illecito per l'illecito si intende una condotta umana sia essa azione o omissione che dà luogo ad una violazione di un dovere o di un obbligo la violazione può essere civile penale o disciplinare le condizioni la condizione di responsabilità per il giudizio prevede una prova del verificarsi del danno un accertamento di un'eventuale violazione e un accertamento del nesso di causalità materiale fra condotta omissiva o commissiva inadeguata ed un evento dannoso si definisce errore in ambito giuridico la falsa rappresentazione della realtà ci troviamo di fronte possiamo avere un errore di diagnosi un errore di terapia sia essa medica che chirurgica qual'errore nell'ambito dell'errore abbiamo un errore incolpevole o un errore colpevole ovviamente che la responsabilità professionale prevede che venga riconosciuta è un'imperizia un'imprudenza e negligenza l'oggetto dell'obbligazione del medico non è la guarigione dell'ortopedico non è la guarigione della malattia ma l'esecuzione di prestazioni e trattamenti donne noi abbiamo soltanto l'obbligo dei mezzi e non dei risultati a differenza di altre categorie la responsabilità penale sappiamo tutti che è personale la responsabilità civile invece prevede la violazione di norme poste a tutela di interessi prevalentemente di natura privatistica entriamo adesso nell'ambito del consenso il consenso è a mio avviso un atto che può essere definito un atto burocratico necessario di regola il medico e la persona assistita il paziente condividono le scelte diagnostico-terapeutiche previ adeguata ed esaustiva informazione di quello che sarà il percorso clinico da porre in essere percorso che viene formalizzato mediante l'espressione di un consenso o un dissenso in assenza di consenso da parte dell'assistito il medico non può iniziare né sospendere alcun trattamento diagnostico-terapeutico esclusi casi espressamente previsti dalla legge il consenso deve essere preliminare al procedimento in essere e deve essere fondamentalmente informato libero personale consapevole ed attuale il paziente in buona sostanza deve ricevere informazioni sulle scelte relative alla propria salute in modo consono alle sue capacità per essere messo nelle condizioni di esprimere una sua volontà comunque ci si può trovare di fronte ad un'attività quotidiana noi possiamo trovarci di fronte alla necessità di intervenire in una situazione clinica emergente oppure la necessità di intervenire nel contesto di una situazione clinica differibile a medio o lungo termine o infine necessità di intervenire nel contesto di una situazione clinica di urgenza differibile a breve esperito questo vaglio di aspetti noi le possibilità che ci si pongono sono due assenso ai trattamenti sanitari che permettono quindi di procedere con le cure ritenute adeguate ed opportune o in caso di contrasto ai trattamenti sanitari tra le persone di riferimento nella ricostruzione della biografia della persona si rende necessario ricorso all'autorità giudiziaria per consentire la sostituzione dell'incapace con il rappresentante legale adesso entriamo nella responsabilità di tutti chi in ambito pubblico chi in ambito privato lavora presso una struttura la responsabilità della struttura sanitaria la legge 24 2017 cosiddetta legge gelli bianco in vigore dal primo aprile del 2017 ha ridefinito i principi generali in materia di responsabilità medica sancendo al primo comma che la struttura sanitaria risponde sempre e comunque in base agli articoli 1218 e 1228 del codice civile cioè risponde a titolo contrattuale al terzo comma precisa che il sanitario in servizio presso la struttura pubblica o privata è tenuto a rispondere del proprio operato solo in adempimento all'obbligazione contrattuale solo se l'assunta di fronte al paziente in tal modo la cosiddetta legge gelli bianco ha chiarito il criterio di imputazione della responsabilità risarcitoria sia della struttura sia del medico riportando la responsabilità del sanitario dipendente nell'ambito aquiliano si sono in tal modo si sono in tal modo nuovamente ribaltati i ruoli delle parti in giudizio al medico dipendente o collaboratore della struttura sanitaria non può essere applicata la presunzione di responsabilità ex articolo 1218 grava al paziente o attore l'onere di dimostrare la ricorrenza del fatto illecito in tutte le proprie componenti e quindi l'errore oggettivo la colpa dell'autore il nesso eziologico di collegamento e di imputazione tra condotta e danno a questo punto detto la responsabilità di struttura dobbiamo parlare anche di rivalsa sempre con la legge 24 2017 il legislatore ha anche disciplinato all'articolo 9 l'azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa della struttura sanitaria nei confronti dell'esercente la professione sanitaria al primo comma dell'articolo 9 si stabilisce che l'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente del medico può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave limite che vale tanto per l'azienda pubblica o azienda privata che agisca in rivalsa quanto per l'assicuratore che ha pagato il danno e che con esso si sia surrogato ex articolo 1916 al fine di favorire gli esercenti della professione sanitaria i legislatori hanno indicato una serie di limiti temporali e quantitativi per l'esercizio dell'azione di rivalsa scongiurando il timore di dover subire azioni non solo da parte dei pazienti e dei loro parenti ma anche da parte delle strutture verso le quali lavorano se per il concetto di dolo sussistono particolari questioni più complesso il concetto di colpa grave che risulta essere caratterizzata deve essere attribuita a colpa grave negligenza imprudenza e imperizia intendendo che l'atto sia stato espletato con sprezzante trascuratezza straordinaria ed inescusabile negligenza o imprudenza grossolana superficialità e particolare non curanza oltre al fatto che venga omessa un'attività diagnostica e terapeutica rutinaria dunque potrà esserci azione di rivalza soltanto quando si è accertato il dolo o la colpa grave dell'esercente della professione sanitaria se vogliamo parlare del doppio binario che cosa significa il doppio binario il paziente può procedere contro la struttura sanitaria o addirittura l'assicurazione della struttura sanitaria o contro la struttura sanitaria l'assicurazione della struttura sanitaria e il sanitario nella prima ipotesi l'azione di rivalza dell'azienda nei confronti del medico responsabile potrà essere esperita dopo aver definito il risarcimento entro e non oltre un anno dall'avvenuto pagamento quindi è chiaro questo aspetto che l'azienda non potrà chiedere il risarcimento al medico laddove verrà riconosciuta colpa grave se non dopo entro un anno dall'avvenuto pagamento nel caso in cui il paziente decida di svolgere la propria azione anche nei confronti dell'operatore sanitario nulla vieta dalla struttura sanitaria e dal suo assicuratore di svolgere l'azione di rivalza all'interno del medesimo giudizio civile senza dover aspettare alcun avvenuto pagamento in virtù del principio dell'economia processuale è importante evidenziare che nel caso l'esercente la professione sanitaria non avesse contezza dell'avvio di un procedimento per l'accertamento di una sua responsabilità che non garantisca il diritto alla difesa è stato introdotto uno specifico obbligo che ho finito pronto un preciso obbligo per le strutture sanitarie e le imprese di assicurazione comunicando agli esercenti della professione sanitaria all'instaurarsi di un giudizio basato sulla responsabilità comunicazione che pena la sua non ammissibilità deve avvenire entro 60 giorni i commi quinto e sesto introducono dei limiti quantitativi all'azione di responsabilità amministrativa della struttura pubblica e di rivalza dell'azienda privata la condanna non potrà in ogni caso superare il triplo della maggiore retribuzione lorda annua o del corrispettivo convenzionale dell'esercente e dell'oressione sanitaria tra quella percepita nell'anno dell'illecito e quella immediatamente precedente o successiva solo nei confronti dei dipendenti pubblici la norma prevede quale pena accessoria in caso di passaggio ingiudicato della decisione di accoglimento della domanda di esercimento che l'esercente per i tre anni successivi non potrà essere proposto ad incarichi professionali superiori rispetto a quelli ricoperti il giudicato costituirà inoltre oggetto di valutazione specifica dei commissari dei concorsi pubblici per incarichi superiori io concludo dicendo che questo take message che è bene nel momento in cui si riceve un preavviso di rivalsa attivarsi sin da subito con la propria compagnia assicurativa ai fini cautelativi ed assumere immediatamente delle contromosse legali attraverso l'aiuto di un professionista molto spesso infatti l'azienda procede con indagini e poche valutazioni senza conoscere nel dettaglio la realtà dei fatti mentre è bene che il professionista sanitario sia messo nelle migliori condizioni di illustrare sin da principio la propria posizione scusate ma gli argomenti sono talmente vasti che ci sarebbero voluti ho tagliato da 25 minuti 10 sono riuscito e non ho detto tutto grazie ringraziamo tutti quanti i relatori e passiamo all'assemblea